Musica Ingresso in campo, terza giornata School Cup, Elio Vittorini viene affrontarsi, terra bruciata contro Red Devils Red Devilsi con la casacca russa, terra bruciata in casacca bianca Capitano, chi è capitano a voi? Forte, forte, forte Allora, fischietto campo, fischietto campo, fischietto campo, ok? Ok, campo a voi Molto al lupo, ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.